L'inflazione nella zona euro è calata più del previsto a dicembre, un dato che potrebbe consentire alla Banca Centrale Europea di portare i tassi di interesse sotto la soglia attuale dell'1%. Il tasso anno di inflazione comunicato da Eurostat si è attestato al 2,7% rispetto al 3% di novembre, scorporando la componente più volatile costituita dai prezzi energetici l'inflazione è scesa all'1,9%.